Ciao bentornati, oggi un consiglio su cosa fare ed aspettarsi prima di poter pubblicare il nostro gioco su Steam. In questi giorni sto preparando la pagina di Creepy Mahjong su Steam ed il lavoro da fare e la documentazione da leggere è assolutamente non paragonabile al tempo che si impiega per pubblicare il nostro gioco altrove come per esempio su Itch.io, Game Jolt, Cartridge e così via. Mentre pubblicare altrove può prendervi magari una mezz'oretta di tempo, al massimo un'ora se è la prima volta che lo fate, la prima volta su Steam vi prenderà sicuramente qualche giorno. Oggi vi mostro alcune delle cose da aspettarvi in modo che possiate prepararvi con grande anticipo rispetto alla data di uscita prevista. Perché sì, Steam assolutamente non è il posto ideale per pubblicare le cose all'ultimo minuto e vediamo appunto qui il perché. Qui abbiamo tutta, questa pagina che poi vi metterò il link in descrizione, la pagina di Steamworks. Ci prendiamo qualche spunto per capire alcuni dei motivi per cui la cosa prende tanto tempo, ma sono molti di più. Quindi giusto per darvi un'idea. All'inizio bisogna fare e difirmare dei documenti digitali con tutte le vostre informazioni. Poi bisogna versare una quota per applicare, per poter pubblicare un gioco, vediamo più avanti poi quanto costa e così via. Bisogna comprare tutta la documentazione con i dati bancari, l'informazione fiscale e così via. Qui non c'è scritto ma la cosa praticamente prenderà anche qui qualche giorno che loro verificano che tutto sia a posto. A quel punto puoi praticamente cominciare a creare la pagina del gioco, metti sulle immagini, il build, il codice praticamente del gioco stesso e così via. E anche qui non c'è scritto ma vi prenderà tanto tempo perché ci sono un sacco per esempio di formati diversi per le varie immagini da mettere sull'icone o tutte le immagini sulle pagine di Steam, sulle collezioni dei giocatori e così via. Prende veramente tantissimo. Prima di poter pubblicare la pagina del negozio e della build del gioco sarà necessario sottoporre a una breve processo di valutazione durante il quale avvieremo il tuo gioco, incontreremo che la tua pagina del gioco sia impostata correttamente e così via. Praticamente può durare da 1 a 5 giorni. Anche qui chiaramente immaginatevi più di 1 a 5 giorni perché chiaramente si intende sempre 5 giorni lavorativi quindi chiaramente sabato e domenica come in tutti questi giorni che si contano non si contano mai. La pubblicazione dei tuoi primi titoli su Steam deve soddisfare alcuni requisiti temporali e qui appunto si va a mettere ancora di più diciamo se allungare i tempi rispetto non solo alla creazione della pagina stessa che riprende un sacco di tempo ma proprio i tempi che si vanno a sommare oltre come dicevo il tempo per che loro verificano i vostri dati bancari e poi i giorni di verifica del gioco e della pagina. Quindi sarà necessario attendere almeno 30 giorni cioè almeno dico io però 30 giorni tra la data del pagamento della quota di pubblicazione questa che si è fatta qua e quella del rilascio del gioco. Quindi abbiamo 30 giorni di tempo da quando pagate a quando potete rilasciare il gioco che devono passare al minimo questi 30 giorni. Questo intervallo ci darà il tempo di controllare le tue informazioni e verificare la tua identità per capire con chi stiamo iniziando una relazione commerciale. E va bene. Poi non solo dovrai preparare la tua pagina del negozio e pubblicare una pagina in arrivo per almeno due settimane quindi non è che arrivate lì pubblicate la pagina il primo giorno almeno per due settimane dovete avere la pagina in cui dire il gioco sta per arrivare può essere anche di più chiaramente di due settimane però ci dà almeno questo come il limite. Questo ti permetterà di attirare l'attenzione dei clienti interessati che potranno aggiungere il tuo gioco alla lista dei desideri o partecipare a delle discussioni. Sarà anche una buona occasione per metterti in gioco e vedere come parli del tuo prodotto un modo da presentarlo nei migliori dei modi al momento della pubblicazione ufficiale. E ci sta, ci sta benissimo questa cosa perché chiaramente loro vogliono fare soldi anche loro quindi non è che solo noi si vuole fare soldi quindi stanno cercando di dire praticamente che più avete il gioco con una pagina in arrivo con più tempo più i giocatori hanno tempo di cominciare a notarvi a seguirvi e così via. Chiaramente poi anche lì non è che mettete il gioco e non fate niente per cercare di tenere l'attenzione alta in qualche modo. Quindi poi dici adesso puoi procedere al rilascio del gioco d'ora in amanti gli strumenti di pubblicazione saranno le tue mani e così via. Quindi riguarda le informazioni di pagamento che adesso poi vi lascio nel link o le leggete con calma tutti i vari link che chiaramente la cosa si dirà ma va su 10.000 pagine diverse. Riguardo al prezzo sono attualmente 100 dollari americani che dovete pagare come quota per ogni gioco che volete pubblicare. Se quel gioco ha successo e fate almeno 1000 dollari lordi allora vi rimborsano questa quota. Però chiaramente va persa. Quindi questa qui è stata una misura messa, probabilmente lo sapete già qualche tempo fa per evitare che ci fossero troppi giochi spazzatura diciamo pubblicati. Quindi niente questo era bene o male quello che volevo dirvi ci sono moltissime regole moltissimi documenti da leggere e io consiglio sempre di leggere bene tutta la documentazione non affidatevi a quello che dicono altri perché comunque sia le documentazioni possono cambiare in qualsiasi momento e quindi niente oggi è così così magari domani qualcuna di queste regole cambino. E niente voi avete già pubblicato su Steam o intendete farlo? Pensavate che fosse semplice come su altri siti o già eravate stati avvisati di tutta questa trafile ad affare? Fatemelo sapere nei commenti e come sempre io ringrazio chi mi supporta su Patreon e ci vediamo la prossima settimana. Ciao!